Ciao, sono Claudio Pietronic e sono qui per presentare la mia prossima clinic che si terrà il 15 marzo presso il Modern Music Institute nella sede di Catanzaro. Il programma, dal titolo Hybrid Picking Development Through Improvisation, rappresenta un corso accelerato riguardante l'apprendimento e l'automatizzazione della tecnica del Hybrid Picking attraverso lo studio di argomenti tecnici e teorici in ordine progressivo e di difficoltà. Troverete tutte le info nella descrizione del video. Non mancate! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS